Ecco, posso dire, naturalmente scherzando, quasi quasi, torno indietro, il retromarcio è pericoloso, sono pazzo di fedela, dice di avere 42 anni, mi pare, 42-44, è un'energia felicemente chiassosa, quindi quando ride, ed è la classica, ed è la classica, signora del sud, originaria di Carovigno, Brindisi raccontava. Ecco, non abbiamo fatto il tempo, causa spazio, che adesso invece è arrivato, è stato fedela.